Sequestro preventivo e confisca di società di capitali, conti correnti, beni mobili ed immobili per un valore superiore ai 100 milioni di euro. Nei guai ancora l'onorevole Francantonio Genovese, indagati anche il figlio, Luigi, nello deputato eletto a Lars e i più stretti familiari. L'operazione condotta questa mattina dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Messina è frutto dell'indagine diretta dalla Procura. Riciclaggio, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta di beni, questi reati contestati. Inchiesta già nota che ha consentito di rinvenire fondi esteri per un ammontare di oltre 16 milioni di euro, schermati da una polizza accesa attraverso un conto svizzero presso la società Credit Suisse. Fondi in parte transitati presso un istituto bancario di Monte Carlo, intestati ad una società panamense controllata da Genovese e dalla moglie Chiara Schirò. 6 milioni trasferiti in contanti in Italia direttamente al deputato di Forza Italia. Le verifiche sui redditi di Genovese e del padre, senatore Luigi, deciduto qualche tempo fa, non hanno consentito di considerare compatibile tale patrimonio con le entrate dichiarate. Nel 2016 poi sono stati notificati dall'Agenzia delle Entrate avvisi di accertamento per oltre 20 milioni derivanti da verifiche fiscali. È emersa una complessa attività di riciclaggio finalizzata anche a fruttare il fisco. Gli indagati, avvalendosi di alcune società a loro riconducibili, avrebbero eseguito diverse operazioni immobiliari volte a trasferire ad altri soggetti beni immobili e disponibilità finanziarie in possesso di Genovese per eludere il possibile sequestro dei 16 milioni, provento del riciclaggio e per sottrarsi al pagamento delle imposte, pari a circa 25 milioni. L'ex sindaco, nel tentativo di sfuggire all'aggressione patrimoniale nei suoi confronti, avrebbe trasferito tutto il patrimonio immobiliare e immobiliare a lui riconducibile per tramite delle società a schermo, Jeffin SRL, Jepa SRL, al figlio Luigi insieme a denaro proveniente dal precedente riciclaggio, applicata alla cosiddetta tecnica dell'altalena, una manovra che ha consentito a Genovese, con la complicità del figlio Luigi, di vanificare gli effetti del pignoramento che sulle sue quote era stato effettuato da riscossione Sicilia. Il sequestro preventivo risulta essere il più cospicuo mai effettuato dalla procura e dall'autorità giudiziaria.